No, 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 no. Sono veramente emozionato di presentare, facciamo un applauso, un piccolo applauso per Raichard! Grazie signori, ecco questo è il salone, quello che vuole dire, ma già però mi ricordo è definito il problem, Raichard c'è un piccolo problemino, ha bisogno di una mano, signor Lei? Signor Lei nega, signor Lei mi era dimenticato che sta, signori, signori, Raichard! Grazie a tutti! Signor Ray, signor Ray, signor Ray, signor Ray, signor Ray, prego venga qui, prego signor Ray, questo è il suo posto, si secca pure, prego, no, signor Ray, signor Ray, signori un attimo, signor Ray, ok, bravo signor Ray, e passo anche la tenata, no, perché è di fiume, prego signor Ray, signor Ray, signor Ray, mi faccio una cortesia, signori, può venire un po' più dietro, perché là non ci sono luci, si può metterci, prego signor Ray, si sieda, si sieda, ecco, quando lo si siede, pensavo che era più, sinceramente più intelligenti di quello che sembra, signor Ray, signor Ray, come dire, ho l'onore di presentarlo, io lo lascio solo, signor Ray, è pronto? ok, signori, è pronto? Facciamo un grande applauso, l'ultimo applauso, dei bigi applausi, signori Ray, ciao! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti